Lei ha detto molto bene, così non si può andare avanti. Sono tanti gli episodi, ma poi non ci sono solo gli episodi più eclatanti che vanno sui giornali, c'è anche quello stress quotidiano dell'insegnante che si trova a gestire una classe difficile. Io ricordo quando ero assessore provinciale qua a Milano, quello era il 2000, quindi pensate, sono passati 22 anni. Ero entrato a visitare alcune classi, l'insegnante stava spiegando davanti a pochi eletti, in fondo alla classe altri studenti giocavano a pallone. Io, confesso, rimasi un po' perplesso, no? Entrato fuori i ceci, no? Allora, noi dobbiamo puntare innanzitutto su due temi fondamentali. L'autorevolezza, cioè ridare autorevolezza ai docenti e il rispetto. Il rispetto verso i docenti, il rispetto verso gli studenti, il rispetto verso i beni pubblici. Anche questo non va dimenticato. E c'è tra l'altro anche una bella lettera dei docenti del liceo Tasso di Roma, che parla proprio di rispetto dei beni pubblici. Benissimo il dialogo studentesco, benissimi i dibattiti organizzati dagli studenti, ma i beni pubblici vanno rispettati. Quando ci sono 500 mila euro di danni in una scuola a seguito di occupazioni, io credo che qualcosa sia andato per diverso sbagliato. Il tema dell'autorevolezza è un tema che va affrontato da tanti punti di vista. Responsabilizzando le famiglie, prevedendo anche, come dire, delle forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno la capacità di rispettare le regole e di essere responsabili. Beh, una cosa che mi è sembrato sempre molto educativo sono i lavori socialmente utili. Ma si deve riflettere, ovviamente. E poi c'è il tema anche dei docenti che devono essere consapevoli, sempre consapevoli, dell'altissimo ruolo che sono chiamati a svolgere. L'autorevolezza passa anche da un miglioramento retributivo. Abbiamo cercato di fare qualche cosa, è ancora poco, ma certamente è il più importante rinnovo contrattuale da tanti rinnovi contrattuali a questa parte. Oggi leggevo che la Cisla ha calcolato in 124 euro al mese in media. È il più alto, credo, negli ultimi, certamente, 15 anni. Ma forse si può andare anche più in là. Detto questo, vi annuncio che ho creato un tavolo proprio per trovare delle soluzioni. Perché questo è un tema che merita delle soluzioni. Che poi siano anche la didattica personalizzata, che siano anche l'intervento dello psicologo, che siano anche sanzioni più efficaci, che siano anche la chiamata a responsabilità dei docenti, che siano anche come qualcuno ha proposto, e non è una proposta peregrina, di aumentare le sanzioni laddove l'atto penalmente rilevante sia commesso nei confronti di un insegnante. Insomma, io credo che noi dobbiamo impegnarci seriamente con un intervento a 360 gradi, perché così non si può più andare avanti. Ricordo, quando io ero un bambino, che il maestro era il maestro con la M maiuscola, era il signor maestro, il professore era il signor professore, e noi stavamo in religioso silenzio. E quando io tornavo a casa e dicevo sai, la maestra che vuole tanto bene al mio compagno mi ha discriminato perché il mio compagno, mio padre, mia madre, diceva no, ha fatto benissimo, ha fatto benissimo a darti la nota, ha fatto benissimo a darti un 6, 5, l'ho preso una volta sola, vabbè, insomma. Ha fatto benissimo a non valorizzarti in quel momento, perché non te lo meritavi. Ecco, mio padre e mia madre mi davano delle regole, mi educavano alla responsabilità.